Il Centro Estetica e Benessere ti aspetta in via Vittorio Veneto numero 186 a Cava dei Tirreni per proporti pacchetti e promozioni adatte ad ogni tua esigenza. Sono entrati nel vivo i festeggiamenti in onore di Santa Maria dell'Ulmo. L'8 settembre, giorno in cui la Chiesa festeggia la Natività della Beata Vergine Maria, la città di Cava dei Tirreni si è fermata per rendere omaggio alla sua celeste patrona. Il clou del programma religioso è stato il solenne pontificale preseduto dal Vescovo di Ivrea, Monsignor Aldo Edoardo Cerrato. Alla cerimonia, animata dal coro dell'Oratorio San Filippo Neri, oltre all'Arcivescovo Orazio Soricelli e ai presbiteri della Diocesi Amalficava, erano presenti tutte le massime autorità civili e militari cittadine. Monsignor Cerrato, già procuratore generale dei Padri Filippini, ha rimarcato il suo legame stretto con la comunità metelliana e con la Vergine dell'Ulmo. Con il cuore commosso sono venuto con grande, grande gioia a dire grazie alla Madonna dell'Ulmo che ho sempre, in tutti questi anni, sempre portato nel cuore con una devozione anche proprio all'immagine, alla sacra icona che la rappresenta. Così bella, ricordo che un anno in cui feci, predicai la novena, intera novena qua, a un certo punto iniziai a commentare i dettagli dell'icona e io stesso ero il primo ad essere stupito di quante cose ci diceva quell'icona, di quanta parola di Dio ci portava, di quanta tradizione della Santa Chiesa ci comunicava. Al termine della celebrazione, che si è tenuta all'interno del chiostro della Basilica e trasmesse in diretta su RTC Quarta Rete, il sindaco Vincenzo Servalli, dopo aver rivolto la preghiera alla Vergine dell'Ulmo come atto di omaggio alla sua patrona, ha offerto a nome dell'intera città l'olio che alimenta la lampada che arde perennemente dinanzi al trono della Vergine. I festeggiamenti in onore di Santa Maria dell'Ulmo proseguiranno fino a martedì prossimo, 12 settembre. Questa sera il programma religioso prevede alle 19.30 il solenne pontificale presieduto da padre Felix Selden, delegato della Sede Apostolica per la Confederazione dell'Oratorio San Filippo Neri. A seguire alle 21.30 Santa Messe ad orazione eucaristica animata dalle suore figlie di Nostra Signora dell'Eucaristia della comunità di Vietri sul mare. Le sante messe poi ogni giorno saranno dalle 7 alle 12 e poi le altre sere avremo varie celebrazioni, tra cui il nostro visitatore apostolico, giorno 9, giorno 10 avremo il padre Abate dell'Abbazia Benedettina Santissima Trinità di Cava, poi giorno 11 avremo Don Alessio Abbertine, sarebbe il responsabile nazionale del Centro Sportivo Italiano, infine poi il giorno 12 ci sarà il nostro arcivescovo che concluderà le celebrazioni e quindi si chiuderà anche questa festa della Madonna dell'Olmo. Ricco anche il cartellone civile che stasera prevede in Piazza Duomo il concerto degli Eteleum, a seguire direttamente da Made in Sud i comici Enzio Essalle e Simone Schettino. L'inviato invece ha data da destinarsi l'atteso concerto Revolution del maestro Marco Volino, inizialmente previsto per domani sera. Oggi e domani spazio anche alla prevenzione, infatti Mani Amiche, in sinergia con l'Associazione Farma e Benessere del Centro Ottico OptoCare, saranno in Piazza Vittorio Emanuele III fino alle 24 per dei controlli sanitari gratuiti. In particolare sarà possibile misurare la glicemia, la pressione arteriosa, la saturazione dell'ossigeno e la frequenza cardiaca. Il Centro OptoCare invece offrirà consulenze optometriche gratuite.